Le regioni possono operare per migliorare quelli che sono i regolamenti europei e lo possono fare sia con proposte dirette all'Unione Europea e sia con proposte al Governo Nazionale per creare una unicum degli interessi italiani. Noi ci siamo accorti che la proposta europea nel settore dell'energia elettrica era una proposta che tende a liberalizzare il mercato e questo perché vedono il mercato dell'energia non come un servizio ma come un semplice mercato qualsiasi. Ora noi stiamo parlando di energia elettrica, l'energia elettrica deve essere intesa come servizio e se servizio deve essere anche per evitare discriminazioni quali possono avvenire per esempio nelle zone dell'Abruzzo interno dove se non viene considerata servizio i prezzi potrebbero salire alle stelle. Bene, in tutto questo noi abbiamo spinto con forza e con chiarezza sia verso il Governo Nazionale ma sia verso l'Unione Europea di considerare questa, la fornitura di energia elettrica, un servizio. Quella proposta tiene conto degli interessi dei grandi produttori di energia elettrica tiene conto degli interessi dei grandi distributori dell'energia elettrica ma non tiene conto degli interessi dell'utente finale, delle famiglie, della gente comune e questo è un rischio davvero in un periodo di turbolenze quale quello che stiamo vivendo. Quindi all'unanimità i membri della Commissione hanno detto chiaramente all'Unione Europea che ci deve essere un prezzo calmierato e che il mercato deve vedere una importante partecipazione dello Stato che dovrà garantire delle tariffe certe e chiare onde evitare scherzi assurdi perché ripeto l'energia elettrica oggi è come l'acqua, è un servizio non si può pensare che sia un lusso o che sia un elemento di mercato.